Avrebbero preso di mira un imprenditore, prima inviandoli una lettera minatoria e poi tentando addirittura di rapirlo. I carabinieri di Andria hanno arrestato Nicola Ribattiti e Antonio Cianciola, entrambi pregiudicati di 47 e 55 anni, con l'accusa di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione e tentata estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo la ricostruzione dell'inquirenti, nella lettera inviata alla vittima c'era un codice identificativo, 666, per essere identificati. L'episodio risale a novembre 2021. I malviventi a bordo di una Stelvio Rubate, dotata di lampeggiante blu delle forze dell'ordine, avrebbero costretto l'imprenditore a fermare la marcia della sua auto sulla strada provinciale 13 Andrea Biceglie, provando a portare a termine il sequestro, senza riuscirci, perché lo stesso imprenditore riuscì a mettersi in salvo e a fuggire. Dopo il tentato sequestro, l'imprenditore ha ricevuto un'altra lettera, sempre con il codice 666, e messaggi in cui venivano chiesti soldi. Altri membri del gruppo sono ancora in fase di identificazione. Quello dei sequestri a scopo di estorsione è un fenomeno gravissimo, ha spiegato il procuratore di Bari, Roberto Rossi, diffuso anche a causa dell'omertà che lo accompagna. Il gruppo aveva la capacità di simulare controlli e la disponibilità di mezzi, armi, persone impegnate nella regia e nell'organizzazione e ideazione dei sequestri, ha concluso il PM. L'elemento significativo è il ricorso a questo codice 666, che è stato utilizzato con riferimento a questo episodio e in altri episodi del passato, e che ci porta a ritenere che sia il marchio di fabbrica utilizzato da un gruppo organizzato di persone e che viene utilizzato appunto come elemento per identificare delle persone alle quali rivolgersi per poi instaurare le trattative per corrispondere alle somme di danaro che vengono richieste anche genericamente senza l'indicazione di importi specifici.